buongiorno oggi ci troviamo a pregassona in una palazzina di due piani ci troviamo al primo piano siamo serviti da delle comode scale entriamo all'interno dell'appartamento quello che vi sto mostrando è un appartamento di cinque locali ci troviamo in una zona molto tranquilla vicino alle scuole ea cinque minuti da negozi servizi e entrata autostradale ci affacciamo sul salotto un salotto diviso in due parti molto ampio e con il pavimento molto caldo abbiamo un carinissimo caminetto e all'esterno c'è un terrazzo un terrazzo da cui possiamo godere di una bella vista panoramica andiamo verso la cucina una cucina completa di frigorifero con il suo congelatore piastre a induzione forno e anche una comoda lavastoviglie procediamo abbiamo un lungo corridoio che separa la zona notte qui alla mia sinistra la prima camera la camera matrimoniale di generose dimensioni qui abbiamo un ulteriore camera anche questa di generose dimensioni che affaccia su un ulteriore terrazzo procediamo verso il bagno bagno completo di box doccia toilette abbiamo anche una comoda vasca da bagno mobile lavabo e mobile specchiera un bagno con una grande finestra sulla mia sinistra troviamo l'ultima camera singola una camera singola che si sviluppa in lunghezza vi ricordo ci troviamo nel cuore di pregassona una zona molto tranquilla adatta alle famiglie a disposizione abbiamo una lavanderia condominiale e se siete interessati a questo appartamento contattateci ti affitto